Con Paviper è un'associazione che raggruppa la filiera delle pavimentazioni continue, nella fattispecie pavimenti industriali, sottofondi e rivestimenti resinosi. Nata circa 20 anni fa con l'idea di sviluppare normative, linee guida riferita a tutti i tre settori dell'associazione. Nella funzione specifica mia ho ricoperto il ruolo fino a luglio di vicepresidente della sezione resine e occupandomi degli studi e delle normative approntate per quanto riguarda la sezione specifica dei rivestimenti resinosi. Abbiamo fatto anche dei meeting combinati con la sezione massetti per fare delle valutazioni tecniche sulla qualità dei supporti per l'applicazione delle resine. Oggi nell'ambito del lavoro di normativo la nostra è la sezione che è più accelerato nell'ultimo periodo, avendo approntato quel che riguarda la normativa 10.9.6.6, ovvero sia una revisione della progettazione dei sistemi resinosi e dalla quale abbiamo potuto sviluppare e mandare in approvazione da ottobre del 2021 la normativa 11.835 per la qualifica degli applicatori. Quindi un elemento molto fondamentali visto anche l'ultimo decreto del Ministero dell'Ambiente che assegna punteggi alle aziende che hanno personale qualificato e con il cosiddetto patentino. Abbiamo redatto recentemente le linee a guida disponibili qui in Fiera. Inoltre la sezione massetti anch'essa ha approntato un codice di buona pratica per quanto riguarda il loro settore e cercheranno poi di sviluppare a seguito di quello una normativa che poi gli permetterà di procedere anche loro con la normativa sulla qualifica degli applicatori. Molto più complessa invece è la situazione dei pavimenti industriali dove si sta lavorando sui fibro rinforzati, sulle nuove norme tecniche e quindi c'è ancora parecchio lavoro da fare ma la commissione che ha insediato, o meglio il gruppo di lavoro ristretto che è molto qualificato, credo che nel prossimo biennio porterà degli ottimi risultati. Perché siamo in Fiera a Bologna? Siamo in Fiera a Bologna grazie a un'operazione nata da Compavi per Consenav che era stata sottoscritta e filmata dal presidente che mi ha preceduto Massimo Fumagalli e dal mio subentro io non ho fatto altro che confermare la programmazione cercando e cercheremo nel tempo di questi rapporti di intensificarli perché è importante produrre lavoro, produrre documentazione, produrre linea guida ma poi l'elemento fondamentale è quello della diffusione e portare a conoscenza il mercato ma soprattutto i progettisti di cui hanno veramente questa necessità perché oggi rileviamo che in ambito progettuale c'è la necessità che anch'essi raggiungano una specializzazione settoriale nell'ambito delle costruzioni anche per l'evoluzione sia per quanto riguarda i materiali sia per quanto riguarda le tecniche applicative sia per quanto riguarda i macchinari. Quindi io credo che questo è un inizio di percorso che negli anni a seguire ci darà grandi risultati con la partecipazione e la volontà di tutti.